...ri portato alla luce preziosa vestigia di una villa romana. Ecco quanto è riemerso dei porticati, del peristilio e delle scale di accesso ai piani superiori. Ed ecco la pulitura degli affreschi e il restauro dell'intonaco dei muri, il lavoro di sterro nelle terme e l'opera di consolidamento delle volte.